L'ASIC è reduce, voi sapete, alcuni anni fa ha avuto un incidente abbastanza importante alla gamba destra e chiaramente un incidente così importante che cosa condiziona? Condiziona uno squilibrio muscolare in tutto il resto dell'organismo, in modo particolare degli arti inferiori. È chiaro che c'è uno squilibrio muscolare, questo squilibrio muscolare provoca una serie di incidenti a catena come si è verificato per il nostro Richard. Mi pare di capire che è un problema che tenderà a riproporsi da qui in avanti. Noi stiamo facendo il possibile, abbiamo fatto anche uno studio posturale sul ragazzo, abbiamo già fatto la possibilità di mettere un piccolo plantare ovviamente sul tallone. Non posso fare previsioni perché è chiaro che l'incidente ha avuto due anni fa, ha squilibrato tutto l'apparato osteo-muscolare. Minelli è una cosa estremamente interessante perché per poter giungere a una diagnosi certa siamo arrivati a proporre un'artroscopia. Abbiamo fatto decine, non dico decine, ma almeno cinque risonanze che non hanno evidenziato mai nulla nel ginocchio, nonostante la mentela sul collaterale di destra. L'artroscopia ha evidenziato, ho parlato direttamente con il collega Emiliano che sta in Emilia Romagna, in paese dell'Emilia Romagna che lo sta seguendo, ha evidenziato una piccola lesione del menisco. E' stata ricuscita sotto artroscopia e adesso comincerà la riabilitazione muscolare. In nuca di Matteo, in nuca invece è proprio il contrario, si è allenato così tanto tempo e qui fa capire come è differente l'allenamento dalla gara. L'intensità dello sforzo fisico praticamente è paragonabile. Tanto si sforza in allenamento, tanto si sforza in partita. Beh, in partita, dopo 20 minuti, non mi ricordo quant'è il minutaggio, si è fatto male. Uno strappo, me ne sono accorto subito, bicipite femorale. Birligea è un caso che è un po' a metà strada fra LASIC e Minelli. In questo caso Birligea è rientrato nella partita di Caserta e voi sapete le condizioni meteorologiche nelle quali i ragazzi sono stati costretti a giocare. Beh, Birligea a Caserta non ha avuto nessun problema, no? E si è fatto male qui e noi ci aspettavamo, era un po' in ansia a Caserta perché giocando con il freddo, giocando sulla neve, giocando su varie cose, un po' di timore ce lo avevamo, no? Dice, forse abbiamo tentato troppo per rimettere in campo Birligea. Beh, guarda caso, a giù non si è fatto male. Qui, dove le condizioni meteorologiche erano completamente diverse, si è fatto male. Sapevamo che era guarito, sapevamo che aveva ripreso bene. Beh, vedete come l'indagine strumentale è completamente diversa da quello che succede in campo.